Nato per tenere viva la memoria di tutte le vittime della scuola Iovine, il concorso I colori della vita taglia il suo decimo traguardo. Anche quest'anno tutte le scuole d'Italia potranno partecipare con poesie, disegni, composizioni musicali sul tema scuola di vita, il bambino, icona dell'umanità, ispirato proprio all'importanza della crescita nella società contemporanea dove si avverte una maggiore tutela dei diritti dei più piccoli delle loro potenzialità. Questo decimo concorso come vedete ha un angelo che custodisce un bambino e ce lo consegna e lo consegna al mondo perché dobbiamo misurarci con i bambini che sono il dono di Dio, il dono della vita e che hanno bisogno di crescere proprio per diventare quella speranza per la quale è nato questo concorso. Il concorso è stato presentato a San Giuliano proprio in quella che è stata definita ora la scuola più sicura d'Italia. Il dirigente Giuseppe Colombo ha ricordato le difficoltà dei primi tempi quando si faceva lezione in tenda e gli aiuti arrivati dalle scuole di tutta Italia. Abbiamo lavorato per riportare il sorriso sui volti dei ragazzi, ha sottolineato, ricordando con emozione i giorni successivi al terremoto. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 21 marzo e la cerimonia di premiazione ci sarà il 9 maggio. Chi è che giudicherà gli elaborati? È una commissione apposita che con esperti per ogni tipo di sezione e certamente poi verrà consegnato un attestato a tutti i partecipanti, in maniera particolare una litografia con l'opera realizzata quest'anno da Don Enzo Ronzitti. Grazie. 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 Grazie.